Qual è la prima cosa a cui pensa quando si trova di fronte a un paziente con malattia renale cronica? Sicuramente la prima riflessione che faccio è cercare di capire quale può essere la causa, cioè qual è la causa dell'insufficienza renale cronica, se possiamo agire puntando direttamente a colpire la causa o se dobbiamo focalizzarci su una terapia neppoprotettiva specifica? In tutta sincerità penso che sia un casino. Sono malattie molto complessi in cui spesso diverse problematiche coesistono, tra cui soprattutto malattie cardiovascolari. Quale relazione esiste tra malattia renale cronica e scompenso cardiaco? Una relazione molto ampia e complessa. La malattia renale cronica predispone o aggrava lo scompenso cardiaco e lo scompenso cardiaco predispone o aggrava la malattia renale cronica. Per cui sono una coppia micidiale messi insieme. Il cross talk come dicono gli inglesi cuore e rene è una realtà ben stabilita, quindi inevitabilmente una patologia cardiaca si ripercuote sulla funzionalità renale, una patologia renale si ripercuote su un'alterata funzionalità cardiaca, quindi il rapporto è estremamente stretto. Social network per l'attività professionale, Twitter o LinkedIn? LinkedIn. Allora io sono antisociale in realtà, comunque tutto va bene, sono però profondamente ostile nei confronti della informazione scientifica solo via Twitter. I miei colleghi che leggono un Twitter e un Twitter dicono che hanno imparato qualcosa sono biasimevoli. Qual è, dal suo punto di vista, la classe di farmaci più promettente in ambito cardiaco renale metabolico? Sicuramente gli inibitori di SGLT2 sono farmaci appena venuti fuori che si pronunciano molto efficaci in questo tipo di contesto. Sicuramente i farmaci che si stanno affacciando in modo importante sul futuro terapeutico sono gli SGLT2 inibitors, le cosiddette glifozine. Quali sono i principali effetti di un trattamento con inibitori di SGLT2 sulla funzione renale? Globalmente li definirei nefor protettivi, anzi il mio collega in questo mi darà ragione. Gli SGLT2 inibitori è stato dimostrato che riducono il peggioramento della funzione renale nel paziente con malattia renale cronica preesistente, che abbia o non abbia concomitante diabete o scompenso cardiaco. Gli SGLT2 inibitors aumentano la glicosuria e il delivery di sodio a livello del tubulo contorto distale che attraverso uno stimolo del feedback tubulo glomerulare determinano una basocostrizione dell'arteriola afferente glomerulare riducendo la pressione di filtrazione glomerulare. Questo determina una fase iniziale, una riduzione del filtrato glomerulare, però nel lungo termine un effetto nefor protettivo significativo. Webinar o congresso in presenza? Congresso in presenza. Ah, congresso in presenza, assolutamente. A me piace molto anche l'aspetto di interazione con i colleghi, che negli webinar è purtroppo quasi del tutto perso. Nell'ambito dello scompenso cardiaco, qual è il principale punto di forza del trattamento con gli inibitori di SGLT2? I dati dei trials clinici finora fatti sono sorprendentemente positivi. Gli SGLT2 inibitori migliorano la mortalità, riducono la mortalità addirittura per tutte le cause in pazienti peraltro già trattati. Quindi il punto di forza è l'impatto sulla prognosi globale. A questo forse ha già risposto correttamente il collega, ma sicuramente gli studi ci dimostrano un effetto positivo nel prevenire le ospedalizzazioni per riempitizzazione di scompenso cardiaco. Qual è il congresso più importante per la sua categoria? Il congresso della European Society of Cardiology, sicuramente. Poi per me che sono votato allo scompenso cardiaco, il congresso della Heart Failure Association della European Society of Cardiology. Il congresso nazionale della Società Americana di Nefrologia sul versante americano e il congresso della Società Europea di Nefrologia sul versante europeo. In 10 secondi, un paziente tipo in cui gli inibitori di SGLT2 sono la prima scelta terapeutica. Questo è facile. Ci metto meno di 10 secondi. Il paziente con scompenso cardiaco a frazione di adenzione ventricolo sinistro ridotta. Quali che siano le altre comorbilità? Se penso al paziente tipo nefropatico, in realtà i dati preliminari dello studio da FASIC-ID farebbero pensare a qualsiasi paziente con insufficienza renale cronica in cui si è richiesta una terapia metroprotettiva specifica. Nella scelta di un trattamento, qual è il suo ordine di priorità tra mortalità, ospedalizzazioni e qualità di vita? Sicuramente ciò che desidera il paziente. Quindi partirei dalla qualità della vita desiderata dal paziente. Se poi penso ai miei ordini di importanza, sicuramente mortalità l'ospedale di flusione. Dipende, dipende. Dipende da che patologia sto trattando. Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, l'obiettivo primario è ridurre la mortalità, migliorare la prognosi. Se invece devo curare una persona con angina, la mia primaria attenzione sarà per la qualità di vita, il sintomo. Città o campagna? Città durante la settimana, campagna al weekend. Città, città, città. New York City. Un consiglio per il collega cardiologo? Seguire con grande attenzione gli sviluppi degli inibitori di SGLT2, che potrebbero rappresentare un'ulteriore grande evoluzione in ambito cardiologico, come sono stati per intenderci gli anticoagulanti orali diretti. Più che un consiglio, una richiesta. Apriamo un ambulatorio congiunto? Un consiglio per il collega nefrologo? Che sia paziente. Quando mi chiama in consulenza, togliere la mia incapacità di avere la sua grande visione e quindi la mia difficoltà a riuscire a capire la complessità dei pazienti che tratta. Dobbiamo cercare di attivarci come specialità in grado di prescrivere i farmaci SGLT2 inibitori. Ha già ricevuto il vaccino per la Covid-19? Sì, faccio la seconda dose giovedì. Sì, ho fatto la prima dose e riceverò la somministrazione della seconda dose martedì prossimo. Qual è, nell'ambito dei pazienti che incontra solitamente nella pratica clinica, la maggiore difficoltà legata alla pandemia? Certamente la difficoltà a far accedere i pazienti in ospedale, specie durante la prima fase della pandemia, quando c'è stato il vero e proprio lockdown. questo ha reso complessa la gestione, soprattutto di quei malati che richiedevano un'osservazione medica, un intervento medico abbastanza urgente e regolare. Sicuramente la maggiore difficoltà del momento è quella di cercare di conciliare le limitazioni logistiche imposte dalla pandemia alle pressioni imposte sul Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti Covid-19 negativi. Vuole salutare il suo collega? Ah certo, ciao, ci prenderemo un caffè insieme prima o poi. Sì, ciao, spero di vederti presto di persona, incontrarti presto di persona, oggi vi va.